Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo. L'immagine a scala europea delle alte e delle basse pressioni ci mostrano come un potente campo di alta pressione è disteso su tutta l'Europa centrale e nei prossimi giorni addirittura si muoverà ulteriormente, migrerà verso l'Islanda, determinando quindi stabilità ancora su molte delle nostre regioni. Ma durante il weekend di Natale da ovest si aprirà la porta atlantica quindi proprio nel weekend di Natale torneranno le piogge sull'Italia e la neve sulle Alpi. Intanto in questo weekend non succede nulla, anche domenica, ampie aperture del cielo, una bella giornata ovunque. Nel dettaglio possiamo notare i cieli sereni o poco nuvolosi su tutto lo stivale, foschie dense e nebbie però in pianura padana a notte e tempo al mattino. Dettagli maggiori li trovate scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo. Dettagli maggiori li trovate scaricando l'Italia.